Lunedì tutti al mare, giovani, famiglie, anziani, come vuole tradizione, per i vittoriesi o luni San Giovanni, come si dice in dialetto, va rispettato in pieno e tra poche ore in pratica, dopo la domenica dei festeggiamenti del Santo Patrono, si apre ufficialmente la stagione estiva con tanti vittoriesi che si trasferiranno presso le case di villeggiatura o seconde case che dir si voglia, una grande voglia di vacanze e di staccare la spina per tanti giovani studenti dopo le fatiche scolastiche, mentre i grandi faranno la spola con la città dovendo mandare avanti la propria attività. Già si annuncia un traffico particolarmente intenso sulla vittoria mare, ma lunedì si raggiungerà il top. Proprio per questo motivo le forze dell'ordine sono già in allerta e hanno predisposto un piano di sicurezza viario lungo le principali arterie in direzione scoglitti e litorali, controlli anche per evitare soprattutto gli eccessi di velocità, ma anche i gomiti alzati, specie dopo le serate trascorse in discoteca o nei locali della zona. Il tempo si annuncia senza sorprese, quindi caldo nella media stagionale dopo i giorni di scipione all'africano, per cui per lunedì ci sono tutti i presupposti per trascorrere una splendida giornata al mare o nelle località di villeggiatura.